Allora, salve a tutti ragazzi, mi è appena arrivato il pacchetto da Corriere, adesso facciamo l'unboxing L'antito l'avete già visto di cosa si tratta Non so perché, ci hanno regalato anche un paio di penne Ed eccoci qua, dopo lo spacchettamento veniamo al coltello vero e proprio Che è l'Oriori da scavo, è di fabbricazione giapponese La lama è in acciaio temperato 4,20, lucidata a specchio E al suo interno, che è leggermente concavo, ci sono due scale di rilevamento per la profondità Una in pollici e l'altra in centimetri Lo spessore della lama è di circa 3 mm Ecco, lo potete vedere da qui Niente, ha una parte seghettata, l'altra parte è liscia Ha una buonissima impugnatura in ABS Molto buona, devo vorrei dire La sua custodia è in ABS rigido, con questo sistema di bloccaggio automatico Con il pilolino che entra qui In più a questo laccetto di sicurezza, così da qui non esce Penso che sia ottimo in caso magari di una ruzzolata involontaria Così non si rischia di fare l'arachiri Come dico sempre io, andrà provato e testato sul campo Comunque la bellezza di questo coltello la potete vedere A me piace moltissimo Ok ragazzi, vi saluto e alla prossima Ciao